Fate unità con me. 18 maggio 1972. Figli miei, ecco che mi presento a voi ripetendo quelle parole che già dicevo ai miei apostoli, che volevano impedire ai bambini di avvicinarmi. Lasciate che i bambini vengano a me. E non siete voi i miei bambini che m'attorniate, mi desiderate e mi onorate. Come vorrei che tutti gli uomini, come altrettanti bambini, venissero a me. La superbia li fa grandi. Essi ingigantiscono davanti ai loro occhi e più si fanno grandi per se stessi e più diventano piccoli agli occhi di Dio. Chi si fa grande guarda con disprezzo gli altri. I piccoli. L'uomo orgoglioso non comprende che tutto ha ricevuto. Egli fa come quell'insetto che, salito sulla groppa di un asino, crede di essere grande come questo. Figli, il mio invito rappresenta un comando, poiché, se non si fa piccolo, il cristiano non può venire a me, non può andare al padre. Ed io per incoraggiarvi a compiere su voi stessi questo lavoro capace di rendervi piccoli. Mi presento a voi bambino. Fate una bella unità con me. Ho detto un giorno ai miei discepoli. Siate una cosa sola con me, come io sono una cosa sola con il padre mio. Questo è il momento migliore per unirvi a me ed amarmi. Il momento della preghiera fatta con me bambino. Un bambino commuove e conquista. La sua fragilità, il suo sorriso, i suoi modi affettuosi e teneri e il suo bisogno di protezione, attirano i cuori. Non si può rimanere indifferenti davanti ad un bambino che si presenta col cuore in mano. Se ha poi le lacrime agli occhi, chi potrà rifiutargli qualche cosa? Così mi presento a voi che dovete essere bambini come me e vi prego. Fate unità con me perché possiamo presentarci al padre. Il padre nulla mi ha negato e mi nega. Il padre mi glorifica e glorificherà anche voi, che con me siete una cosa sola. Quando però guardo il mondo, la Chiesa e le vostre famiglie, soffro nel vedere così poca unità. Vi ho detto ancora, ogni regno diviso in se stesso va in rovina. Perché tanta disunione, tanta discordia dovunque. Ecco, figli, che questa bella unità che fate con me, dovete farla anche fra di voi e, soprattutto, con i vostri cari. Dipende molte volte da voi ricostruire ciò che è andato distrutto. Solo la morte è irreparabile. Tutto il resto può essere ristabilito. Bisogna correre ai ripari, con buona volontà, rinunciando qualche volta all'amor proprio. Mettendo sotto i piedi il puntiglio. Non abbiate mai il desiderio di rendere male per male. È solo con la bontà e l'amore che si vince. Così si fa unità. Quell'unità così auspicata da me perché animata dall'amore. Se doveste mettere all'inizio delle vostre giornate questo desiderio. Oggi voglio unire i cuori. Non tanto attorno a me quanto attorno al cuore di Gesù bambino. Che desidera con voi pregare. Amare. Soffrire ed anche godere e teneste fede a questo impegno. Io penso che si realizzerebbe nel più breve tempo quella pace che vi sta tanto a cuore. Pensate a ciò che succede in tante case e in molti posti di lavoro. Ha come la cattiveria. L'invidia e tutto ciò che a questi due difetti fa corona. Rovinano individui, famiglie ed ambienti. Così da renderli luoghi di sofferenza e di desolazione. Ebbene. Provatevi a portare un soffio di carità. Portate me. Bambino. Cioè fatevi bambini. Sappiate dimenticare. Perdonare. Sorridere. Rendervi piacevoli. Non criticate. Non mormorate. È tanto pericoloso il farlo. Poiché da una piccola cosa ne può venire una grande e la vostra presunzione e la vostra imprudenza sarebbero giustamente oggetto di deplorazione e di biasimo. Sappiate tacere, figli miei. E non ve ne pentirete mai. Sappiate fare unità di cuore con tutti. Tutti devono trovare in voi un cuore aperto. Disposto ad andare incontro alle altrui necessità. Così si estende il regno di Dio. Questo era il progetto di Dio riguardo al mondo quando egli lo creò. Che esso fosse la casa dell'amore. In cui egli, comunicando con gli uomini, avrebbe potuto effondere le sue ricchezze di grazia e di bontà. L'uomo ha cambiato. Ha svisato i desideri di Dio. Ora bisogna ricostruire questo regno d'amore. Con l'aiuto che vi viene dall'alto e con la vostra buona volontà, mettetevi all'opera. Ognuno ha attorno a sé un piccolo mondo. Fate unità. Facciamo una cosa sola. Voi con me, bambino. Vi porterò al padre. Sarete felici. Figli, vi benedico. Donandovi come pegno d'amore il mio cuore. Pensatemi così, bambino. Anche quando vi accostate alla comunione. Vi sarà più facile amarmi.